otmix è la macchina innovativa in grado di svolgere molteplici funzioni per soddisfare ogni esigenza professionale otmix lavora come mixer per emulsionare liquidi come cutter per la lavorazione di qualsiasi ingrediente solido come sistema di cottura professionale per svariate preparazioni otmix è dotata di motore professionale da 1500 watt di potenza è in grado di triturare omogeneizzare emulsionare amalgamare o miscelare in poco tempo qualsiasi tipo di prodotto raggiungendo una velocità lame pari a 12.500 giri peculiarità questa che differenzia otmix dai tradizionali cutter ponendola ad un livello sicuramente superiore in quanto consente lavorazioni veloci senza alterare le caratteristiche intrinseche e le qualità dei prodotti utilizzati e realizzati raggiungendo una raffinazione del prodotto lavorato idonea a soddisfare ogni specifica esigenza l'innovativo sistema di cottura rende otmix unica e insostituibile permettendo lavorazioni a caldo quali creme salse marmellate e altro escludendo la costante presenza dell'operatore infatti tutti gli ingredienti si inseriscono a freddo all'interno del bicchiere si seleziona la ricetta e otmix inizia la lavorazione garantendo il preciso e costante controllo della temperatura variabile dai 30 ai 115 centigradi la corretta miscelazione con l'opportuna velocità costante o variabile in base alle diverse fasi lavoro il risultato di tutto ciò sono preparazioni perfette con grande risparmio di tempo in quanto l'intervento e la presenza dell'operatore sono richiesti solo in fase iniziale di impostazione e fase finale di verifica e uso prodotto dunque le preparazioni base indispensabili in ogni cucina saranno realizzate da otmix in totale autonomia con risultati sempre sicuri e decisamente superiori per qualità ma non solo otmix offre una serie di lavorazioni già memorizzate alle quali aggiungere nuove ricette per snellire tempi lavoro assicurando sempre ottimi risultati tutte le lavorazioni ricette e fasi lavoro sono sempre visibili dal display lcd il pannello comandi è intuitivo e molto facile da usare anche per lavorazioni impostate manualmente vediamo nel dettaglio tasto programmi per visualizzare e selezionare le ricette già memorizzate con liste ingredienti e grammature tasto più per aumentare velocità tempo e temperatura tasto meno per diminuire velocità tempo e temperatura tasto pulse turbo con pulse si agisce con funzionamento di intermittenza per le velocità da 1 a 10 tenendo premuto turbo si porta la velocità impostata minimo 6 alla velocità massima sino al suo rilascio tasto tempo per impostare il tempo lavoro sino ad un massimo di 4 ore tasto temperatura per selezionare la temperatura da un minimo di 30 ad un massimo di 115 centigradi tasto start stop per avviare e arrestare funzioni e lavoro otmix è fornita con 50 programmi ricette predefiniti ai quali è possibile aggiungerne altri sino ad un totale di 300 la porta usb consente di inserire ricette direttamente dalla memoria del pc il coperchio è dotato di comodo bicchierino dosatore da 25 a 50 cc la chiusura del coperchio è ermetica e per agevolare l'operatore nel suo lavoro è possibile l'apertura parziale dello stesso da ambo i lati il bicchiere è in acciaio inox graduato al suo interno a capacità di lavorazione pari a 2 litri prodotto inoltre è dotato di manico ergonomico da posizionare a destra o sinistra in base alle esigenze il gruppo lame è progettato e costruito per un facile smontaggio ed una conseguente facile e sicura pulizia otmix è la macchina in grado di fornire un concreto aiuto in ogni cucina professionale distinguendosi con caratteristiche quali l'affidabilità del motore la struttura realizzata completamente in acciaio inox a easy 304 rendono la macchina idonea per un uso quotidiano frequente e continuativo per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza utile ai professionisti del settore costruita nel rispetto della normativa professionale assicura l'opportuno isolamento in fase di cottura delle parti esposte all'eventuale contatto dell'operatore inoltre è dotata di sensore magnetico controllato da microprocessori sull'apertura del coperchio i comandi sono a bassa tensione a grado di protezione ipx1 contro polveri e umidità l'innovativo controllo del motore tramite microprocessore regola automaticamente la potenza in funzione della temperatura del motore il sistema di ammortizzazione per le vibrazioni tramite piedini molleggiati rende otmix stabile anche ad alte velocità otmix è in grado di assolvere in totale autonomia a tutte le preparazioni base indispensabili e oltre a questo permette di arricchire le proposte rivolte agli utenti finali senza bisogno di ulteriori impiego di tempo e personale otmix rappresenta l'innovazione per il quotidiano lavoro dei professionisti del settore Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.